bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video attenzione ancora siamo da carmel lo stiamo seguendo bellissimo intanto la kill di pizzo carmel attenzione un momento avanti ancora avanti ancora avanti ancora 46 in 15 46 sono tantissimi devono proseguire no grazie amo messo c attenzione cosa si mette sulla bocca la burro di arachi di figa attenzione ancora siamo da carmel lo stiamo seguendo bellissimo intanto la kill di pizzo carmel rimangono a bordo della safe e quasi farma per recuperare un pochettino di materiali extra cosa che si vede sporadicamente in queste in queste safe voglio dare un pochettino i giocatori di bellix nice ha trovato l'avversario che era mega low 88 80 punti scusatemi si sale si sale bisogna bisogna assolutamente farmare bisogna assolutamente farmare nice avanti avanti bello questo bello questo e escono dal problema e sono dal problema si cerca di salire bravissimo bellix bravissimo avanti bellix di nuovo con un tarpe velocissimo in low ground becca uno lo messo a 40 alla rocca let's go bello 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 bellix on fire bellix on fire attenzione 14 in mi sembra di vedere o 15 25 dai ragazzi dai ragazzi si può fare si può fare stanno dicendo che nel lato sei morto perché ti hanno full droppato piz come sei morto non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo questa è stata una porcata pizza questo è stato una gran porcata pizza ma si prosegue attenzione cade tutto ma non è successo quasi niente attenzione attenzione avanti ancora avanti ancora avanti ancora c'è james con basso baffo povero baffo raga non riesco a chiamarlo bene non riesco a chiamarlo bene mai attenzione ancora nel middle della fifti per baffo voglio vedere come la chiudono voglio vedere come la chiudono ragazzi uno per pizza ma prendere anche una finish e il giocatore che cerca di scappare credo che abbia capito proprio male quello che c'è da fare ma prima di andare a completare la terza kill un recupero fast dei mazze intanto mi sembra che il pippone dopo che sia scarso ma perché è pippo si è riuscito a prendere la kill nice proseguiamo russo allora sentiamo baffo parlare tipo così e 10 tu james prepara build forti per torp raccomando prende pompa quello biello andiamo è italiano allora italiano e james james io devo smettere di ascoltarvi io devo smettere di ascoltarvi perché voi mi portate sulle strade cattive i figi ma non è questa non è difficile è vicino all'impossibile adesso sto giocando con su del ragazzi salve abbiamo su dieci che faccia almeno 12 oltre devo restare salve e uno di due con solo il pompa porco diaz andiamo una kill senza il pompa poi salve la r salve sempre io sempre sono io si vedrà mai ma cosa sto rischiando ragazzi salva milan sa non può restarlo no 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 non mi è piaciuto non mi è piaciuto bellix a tempo si sente fritto attenzione ragazzi attenzione voglio seguire sto sentendo un c'è un profumo che non capisco e quell'altra macchina a destra non so non sono un suo collega mi sa what the fuck what the fuck bello quello che fa hai fatto i duecento? si i duecentododici in movimento con l'arco begel te c'ha pa anche l'usel te c'ha pa dai gabix a vun due tricks nice un resto al secondo moving è una follia piz torna in game let's go nice buono questo è giusto nox viva let's go double spray easy vai ragazzi 45 come non può fare l'altro attenzione un'arma eh solo un'arma eh è morto mazzo non ci credo non ci credo what mamma mia ti sta bene pezzo di f*** che ci hai ucciso bastardo hai insottato gli italiani prendi il c***o adesso scherzo scherzo di m*****o uuucca che ci hai insottato gli italiani sto c***o il pesce ma vai a c***o il canale di fortnite wolfitz e la signorina vadeal giustamente ci chiedono cosa si fa il festo dalla signorina nooo e quello che e perché il festo lo sassi ciotto c***o giù ma gli ha fatto max damage gli ho fatto max damage mazzone ha chilato 1 attenzione nice e si mazzone ha chilato 1 bello questo lato 2 nice finish finish senti come lo chiamano easy buono 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 eeeh senti come salta let's go let's go guys let's go guys 116esima posizione per il baffone intanto diamo un refresh alla classifica è una classifica no bafforo io ci bevo sopra mi dispiace no questo no 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 hey benji what's going on hey sir i have a problem i have a problem with this i don't understand if you can win please coach me coach mi per favore e gli faccio benji i cannot coach you benji i'm too strong for you gli ho detto troppo forte per te no benji please play your game stay relaxed be quiet you are a good player you are a good player no sooner sooner i'm scared no if i can how you speak can yeah yeah e allora gli ho detto benji non posso coacharti nel senso non non potevo non potevo non potevo l'ha detto l'ha detto mi ha chiesto il coach 一定 a a a ciao